Centinaia e centinaia di re magi nel primo pomeriggio hanno invaso piazza Silvius Magnago a Bolzano. Con grande affetto e con grande emozione hanno salutato il presidente della provincia Arno Compaccer per poi incontrare il vescovo della diocesi di Bolzano Bressanone, Ivo Muser. Io credo che è anche un ringraziamento per tutti i ragazzi, vedere anche il signor Compaccer che gli dica grazie per il lavoro ed è una cosa molto importante ricevere un grazie per il lavoro che fanno i re magi. Un incontro molto sentito dai più giovani che intendono portare avanti questa lunga tradizione. È una delle tradizioni più vecchie, anche per me più belle chiaramente, ed è bellissimo che sono tantissimi ragazzi alttesini che sono involti ed è una tradizione bellissima. Nel periodo natalizio i cantori della Stella hanno portato le loro voci in diverse case raccogliendo alcune importanti donazioni. È accolta già dal 26 o del 27 dicembre fino al 6 di gennaio e adesso stiamo contando quanti donazioni abbiamo ricevuto.